Sei tornato in campo da un paio di partite almeno, prima di tutto come stai? No, sto bene, sto bene, sono rientrato da due partite, ho fatto, gli ultimi due partiti ho fatto 90 minuti e la partita prima ho fatto mezz'oretta, però non sono ancora il 100%, diciamo al 90, però sto bene. Raccontaci un po' il gol di oggi, dove hai visto lo spazio per calciare? Ho visto la palla lunga su Ciro che si era messo a spalla alla porta, allora sono andato sotto per lo scarico, ho visto lo spiraglio sul secondo palo, ho calciato e è andato bene, ho segnato. Ovviamente sei contento per il tuo gol, ma penso che prima di tutto il pensiero va dalla squadra alla vittoria. Sì, una vittoria ci mancava da qualche partita, vincere in casa è sempre molto emozionante, bello, soprattutto anche per i tifosi, per l'orgoglio e siamo contenti che ci siamo portati a casa tre punti. Dopo periodi così difficili, una vittoria di questo calibro può essere anche un punto di svolta magari? Sì, dopo magari un periodo negativo, una vittoria può svoltare molte cose. Di certo però non è una vittoria che ci fa sedere sugli allori. No, quello sicuramente, abbassare la guardia mai, bisogna sempre stare concentrato sul pezzo perché nessuna partita è facile.